Verificare se gli aumenti sono giustificati o meno controllando le bollette dei rifiuti degli ultimi cinque anni. Il Comitato di scopo a difesa del reddito delle famiglie e della trasparenza dei conti di Padova 3 invita i cittadini della bassa padovana a confrontare quindi le bollette a partire dal 2012 per calcolare aumenti e valutare se sono giustificabili e chiede che il Presidente del Consiglio di Baccino convochi un'assemblea territoriale per fare chiarezza su una vicenda finita sotto i riflettori della magistratura. I dati che emergeranno da questa lettura incrociata rappresenteranno un argomento in più per chiedere le firme a sostegno della difesa della buona amministrazione, del reddito delle famiglie e soprattutto di una proposta alternativa di raccolta e smaltimento rifiuti. Intanto a Conselve il Movimento 5 Stelle, che da anni ha sollevato la questione degli aumenti in bolletta, punta il dito d'accusa contro i sindaci delle passate amministrazioni comunali. Colpevoli, dicono, di non aver tutelato abbastanza gli interessi dei loro cittadini.